Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Si è spenta Pamela, una donna di soli 42 anni che è stata colpita da un fulmine. La tragedia è accaduto sabato 3 agosto 2024. Poi la donna è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi e ieri, lunedì 12 agosto, poi è arrivata la terribile notizia. Pamela non ce l'ha fatta. I medici hanno confermato l'assenza di attività cerebrale. Pamela si trovava in spiaggia con un'amica. Mentre le due passeggiavano, un fulmine le ha colpite. Un bagnante ha subito aiutato Pamela praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Poi è intervenuto il personale del 118 con un defibrillatore. Pamela è stata rianimata e poi trasferita all'ospedale Mazzini di Teramo in elicottero. Coinvolte nell'incidente anche altre due persone, l'amica di Pamela e una turista francese che passeggiava vicino a loro. Delle tre donne ferite, però, Pamela era la più grave, fa sapere il messaggero. Le altre due fortunatamente sono sopravvissute al drammatico evento. Pamela viveva ad Alba, in Piemonte, con suo marito e il figlio minorenne e si trovava in Abruzzo per una vacanza che poi si è trasformata in tragedia. La donna purtroppo non ce l'ha fatta.